Oggi con un mio allievo di conservatorio si parlava di chiarire bene le idee dal punto di vista ritmico se si suona un latin. Il latin nel jazz assume una connotazione stilistica abbastanza vaga perché ci può stare la bossa nova, il samba, il tumbao cubano, la rumba, la begin, il calipso. Ci sono dei brani tipo St. Thomas di Sonny Rollins, che è un calipso. C'è Night in Tunisia nel quale la forma ritmica, il comping, può essere preso in prestito dal Mozambico di Ged. O prima di Ged, ascoltatevi, Art Blackie, ecco, il latin perfetto nel jazz è il suo. Ci sono dei brani nei quali la figurazione del latin può essere sempre quella dal punto di vista del comping tra le due mani. Ma la cassa deve rispettare delle figure ritmiche ben precise, altrimenti non si lega alla linea ritmica del basso e quindi si crea una gran confusione, un gran calderone nel quale si butta dentro di tutto un po' e se va di culo funziona, altrimenti no. Non è tanto il comping che facciamo tra le due mani, che per farla breve, per capirci tutti quanti, può essere una sorta di Mozambico alla Steve Ged sempre. Che sia Night in Tunisia o che sia un altro brano, se noi facciamo più o meno quel... Va bene sempre. È la figura ritmica della cassa che determina cosa fare nel brano idoneo, che significa accordarsi con la figura ritmica del bassista. Nel tumbao... Si adotta un ostinato ritmico ben preciso, nel quale non c'è mai il battere. Non è detto che questa figura possa essere idonea rispetto a un tema, a un giro armonico, soprattutto perché costringeremo il bassista a seguire quella figura ritmica. La mancanza del battere potrebbe nuocere all'allestimento del brano. Viceversa, se io con la cassa faccio il movimento classico della bossa nova... Anche qui può andar bene come no. Se io suono Night in Tunisia... Lo sambizzo troppo. Quel tema lo faccio diventare troppo samba. In Night in Tunisia il basso fa... Bene, allora dobbiamo ragionare con il bassista per capire se la nostra cassa... One, two, three, four... Così... Si sposa bene con il... Secondo me si crea un gran casino ritmico, perché il bassista suona... E io sopra ci faccio... Pertanto se la linea del latin del bassista è molto fitta, la cassa potrebbe ridurre il suo compito. Perché non mettere la cassa in due? Ecco che faccio risaltare la linea di basso... Oppure seguendo qualche accento... Suoniamo una bossa nova... Ecco, questa è la bossa nova... Suoniamo un samba... A seconda della velocità del samba potremmo anche evitare di fare... Perché diventa una carica dei 101... Troppa roba... Anche in quel caso la cassa in due è perfetta... Non invade ma sostiene il movimento tipico del samba che è il due mezzi... E soprattutto accentare il secondo movimento... L'ho fatta lunga... Nel corso della Jazz Drama Academy si parla nella pratica suonando con degli esercizi apposta... E con degli esempi pratici di tutto ciò... In conclusione... Il Latin Jazz è molto ampio come possibilità ritmica... Tutto va bene e tutto va male... Bisogna accordarsi col bassista... Bisogna sostenere con la cassa i movimenti idonei... Per non invadere il campo della linea di basso... Per non invadere il campo di un eventuale ostinato appropriato a quel brano... E quindi operare con intelligenza... Togliendo note di cassa piuttosto che metterne... Ciao!